Buongiorno a tutti e ben ritrovato ad un nuovo appuntamento con AC News, il notiziario dedicato all'Arezzo Calcio e ai suoi campionati. Partiamo subito con quella che sarà la prossima partita dell'Arezzo che giocherà domenica tra le mura dello stadio comunale alle ore 14.30 contro l'Olbia. Ricordiamo che sarà l'ultima partita che l'Arezzo giocherà di domenica perché poi dalla successiva trasferta in casa del Cuneo il Cavallino giocherà invece di sabato fino alla fine del campionato. Le prevendite stanno procedendo a gonfie vele, ricordiamo che possiamo acquistare il tagliando sul sito www.sport.ticket1 e poi presso anche la tabaccheria del Bagnoro. Da oggi fino alla giornata di sabato la mattina dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30 e poi invece domenica 24 il giorno del match dalle ore 8 alle ore 13.00 tanto che poi alle 11.30 aprirà anche la biglietteria centrale posta all'angolo fra Viale Gramsci e Viale Giotto. Si sono giocati ieri intanto tre recuperi, soltanto una piccola parte di quelli previsti per completare il quadro generale del girone A. A Olbia la partita contro il Siena sospesa lo scorso 9 dicembre a causa del forte vento è ripartita dal quindicesimo del primo tempo. Le due squadre hanno potuto quindi utilizzare soltanto i calciatori tesserati a quella data e non i nuovi innesti di mercato. Il risultato finale è stato un pareggio a reti bianche per quello che poi sarà il prossimo avversario del Cavallino. In campo poi ieri anche Cunio e Lucchese gravate dalle penalizzazioni rispettivamente di 15 e 16 punti accumulati in stagione e che proprio anche l'altro ieri hanno ricevuto un'altra penalizzazione di 8 punti e poi un'ammenda di 350.000 euro. Il match è finito 1-0 per i rossoneri, gol di Bortolussi al minuto 56. La Virtus Entella ha invece iniziato la sua serie di recuperi riportando una vittoria contro la Pistoiese. Gli arancioni hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie a un rigore di Luperini. Nella ripresa però i Liguri hanno ribaltato il risultato con il pareggio arrivato in apertura della ripresa di Chiosa e poi la doppietta che porta la firma di Mota. La classifica vede al momento quindi Lentella a 49 punti, a seguire poi il filotto del vice capolista Provercelli, Piacenza e Arezzo a 46, Siena a 42, a 40 punti la Carrarese e la Propatria. Termina qui la prima parte di AC News, particolarmente sintetica ma perché oggi sarà una puntata particolare avremo ben due ospiti di cui nel prossimo blocco un ospite amaranto. Quindi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi.